Giuseppe, dinanzi al portone, trastolava il suo bambino cullandolo sulle braccia, mostrandogli lo scudo marmoreo infisso al sommo dell'arco, la rastrelliera inchiodata sul muro del vestibolo, dove ai tempi antichi i lanzi del principe appendevano le alabane. Io considero il Viterre il più grande romanzo della letteratura italiana moderna dopo i promessi sporo.